La sesta edizione di Giobbando, in programma dal 17 al 23 ottobre, è stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni e da Lapo Tasselli, presidente dell'associazione Giobbando ed ideatore dell'evento. Sarà una edizione 2020 completamente virtuale per il Laboratorio Creativo del Mercato del Lavoro che fa incontrare domande e offerte attraverso colloqui con le aziende ed affronta i temi del settore, come la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest'anno particolarmente sentita a causa dell'epidemia di Covid-19. Giobbando è una delle iniziative più concrete e più efficaci che il panorama toscano sta presentando da anni proprio nella interlocuzione di quello che poi sono le opportunità concrete sul piano del lavoro. Del resto sarà espressione di una svolta che io vorrei dare anche alla formazione professionale in regione, ovvero più attenta e più finalizzata alle esigenze del mondo del lavoro, meno legata a quello che è una sorta di corso post istruzione e conseguentemente proprio sull'approccio che io voglio dare alla formazione professionale, Giobbando mi soccorre. Questa è un po' anche la filosofia con cui è nata Giobbando, proprio il fatto di molte aziende che cercavano profili che ahimè non si trovavano. Quindi l'idea è nata, purtroppo si continua a replicare questa situazione in cui tante aziende cercano dei profili che però non esistono. Sono nate anche tante scuole di formazione, ci saranno anche loro che cercano di colmare questo gap attraverso la formazione di profili più specializzati. Legata all'evento è anche l'iniziativa di solidarietà Giobbando Run con Lorenzo, la corsa podistica proposta in una modalità insolita, individuale a piccoli gruppi, organizzata in collaborazione con l'Associazione Lorenzo Guarnieri che promuove la cultura della sicurezza stradale.